Amici mountain bike, ci troviamo sotto una tempesta d'acqua, vi faccio vedere solo la strada come è fatta, guardate quanta acqua scende, ecco i ragazzi, questo è Giovanni, eccolo qua, c'è un'acqua, noi vi dico in che situazione ci troviamo. Allessandro, ecco Dario, ecco Ferdinando che mi saluta sempre, Renato che anche lui è imborfato d'acqua, e per ultimo Gigi, ok, ti faccio vedere come siamo messi, ecco Clodo, guarda come siamo, guarda come siamo messi, Ti faccio vedere la strada, ecco la strada, se abbiamo perso la bici, ecco le mie bici, purtroppo siamo praticamente sotto una tempesta d'acqua, grandine a non finire, ok vi saluto, no no andiamo, ecco Gigi, Mi sono dovuta riprendere, ecco qua, l'ultima discesa di Andrea, tu la metti in bici, metto gli occhiali e vado, qui non sta piovendo, sta diluviando, un po' di degli cristalli, e andiamo, ecco la mia mitica stock, a tutto, ciao Clodo, alla prossima, ciao! Ciao!